Alfonso ha autore di una doppietta, il Cervinara come solito ormai capita in queste ultime gare, soffre ma alla fine vince. Sì, come hai detto tu stiamo soffrendo da un po' di partite, però alla fine riusciamo a vincere, va bene così. Senti, una tua doppietta che fa capire come sta giocando Alfonso Bovino, dalla tegoseria Osannato perché è il giocatore che dà più continuo dal gioco e soprattutto dal giocatore che riesce nei momenti di difficoltà a dare qualcosina in più alla squadra. Alfonso, domenica c'è il derby e la gente si aspetta, chissà tante cose questo derby. Questa partita è molto indicativa, secondo te che Cervinara sarà a Montesaro? Sicuramente sarà un Cervinara aggressivo che combatte su ogni pallone e che dobbiamo sputare sangue perché sappiamo quanto i tifosi ci tengono a questo derby. Un'ultima domanda, a chi dedichi i tuoi gol? No, la dedico alla squadra e poi alla mia ragazza che sta in un periodo di convalescenza. Gli altri segnano però il vero Salvatore Di Maio si sta iniziando a vedere ormai da 3-4 gare. Lì in mezzo al campo o cuci e scuci come si suol dire e sicuramente stai arrivando al top della forma. Questa è una cosa importante, arrivare al top della forma. Volevo arrivareci prima, però per una serie di circostanze ci stiamo arrivando e questa è una cosa positiva. Il fatto del gol, sono uno che segna poco sinceramente. Faccio tutto altro lavoro però sono contento per i ragazzi perché c'è chi deve segnare, chi deve portare l'acqua e chi deve costruire oppure cucire. Esco uscire come hai detto tu. Senti, il Grotta almeno a due minuti dalla fine perdeva 2-1, quindi un campionato che si è diviso in due tronconi. Il Montesarchio viaggia per fatti suoi, il resto del gruppone ad inseguire e domenica c'è Cervinara-Montesarchio. Montesarchio-Cervinara. Guarda, Franco, ti dico che è un campionato strano, vedo dei risultati inaspettati. Il Montesarchio, come ho detto, sta facendo un campionato a parte. Forse non è che stiamo andando noi piano, sono loro che stanno andando veloce. Perché linea di massima, penso seconda, terza, rispeccano i punti di un campionato normale, voglio dire. Un'ultima domanda ai tifosi, alla fine vi hanno ringraziato e voi avete ringraziato loro. C'è questo feeling particolare che specialmente in questa settimana dovrà essere ancora di più messo in cantiere, anche perché il derby col Montesarchio rappresenta per Cervinara la partita dell'anno. Sì, questo è vero, perché i tifosi diciamo che vivono proprio per questa partita. E noi sinceramente cercheremo di regalargli questa soddisfazione enorme, immensa, che per loro vale più di un campionato. Per noi però comunque è una semplice partita e andiamo avanti dopo Montesarchio, avanti alla prossima. Condizionata da tanti errori difensivi, ma alla fine risolta dai giocatori di maggiore esperienza della squadra. Un brutto inizio di gara, non lo so. Poi prendiamo sempre dei gol su calcita fermo e poi piano piano abbiamo iniziato a giocare, abbiamo fatto il pari. E poi vabbè, è normale che chi ha l'esperienza giusta come Stasadimaio, Stellato, Bovino, sono quei calciatori che ci fanno fare la differenza. Ci presentiamo inizio alla settimana particolare, una settimana che Cervinara vive tutto l'anno. E' vero che non è bello parlarne subito, però diciamo che si inizia da oggi per finire domenica sera, quando sarà tutto concluso. Il derby, mai come quest'anno, mai come questa volta, sarà importantissimo perché, qualora non ci sia risultato, per Cervinara cambia poco, però per il Montesarchio forse gli diamo il là per una fuga solitaria. E vabbè, oggi abbiamo recuperato tre punti sul Grotta che in settimana ha ricevuto dalla Lega per un errore dello stesso Cicciano. Il Montesarchio come sta giocando adesso è difficile da recuperare, però andremo lì per giocarci a partire, prendendo insegnamento dal secondo tempo e da quello che abbiamo fatto nel secondo tempo e come abbiamo giocato in campo il secondo tempo. Quindi prendiamo insegnamento da questo oggi, perché la squadra nel secondo tempo stava bene messa in campo, coprivamo bene gli spazi e quindi l'insegnamento del secondo tempo ci fa pensare che a Montesarchio andremo per giocarcela apertamente, poi vinca il migliore. Quindi se vinciamo poi si riapre per noi il campionato, se perdiamo quella partita oppure se non facciamo il risultato il campionato diventerà un campionato da playoff normalmente, ci giochiamo poi molto probabilmente nel secondo posto ci riusciamo.